Grazie, buongiorno a tutti. Un ringraziamento all'amico Antonio Agostini con cui abbiamo condiviso alcuni percorsi professionali e quindi poi ci si incontra nella diversità dei ruoli ma sicuramente anche nella costanza degli obiettivi. Prima di entrare ma molto brevemente nella presentazione nel mostrarvi una serie di immagini che concretamente porteranno poi il tipo di messaggio che si voleva dare, vorrevo però condividere sulla base degli interventi che ci sono stati due osservazioni. La prima è quella che un incontro di questo tipo è un incontro particolarmente importante perché è un esempio di come il mondo degli utenti dello spazio guarda allo spazio per le possibilità che questo può dare. Molte volte nella storia per chi ha seguito il percorso di evoluzione dello spazio. Lo spazio ha svolto anche un'attività di push ma in qualche modo ha finito per generare una certa domanda di ricerca e poi di fatto cercava anche di proporre quella che è la sua utilizzazione. Oggi un incontro di questo tipo è un incontro in cui il mondo dello spazio viene invitato per quello che è in grado di offrire da un mondo di utilizzatori delle tecnologie spaziali. E questo scenario è diventato estremamente importante perché se la storia dello spazio è che è nato per guardare lo spazio più lontano, vedere quella che era l'esplorazione dell'universo, conoscere quella che è la frontiera dell'umanità, sempre di più si è affermata negli anni la componente di utilizzazione dello spazio, cioè dallo spazio si guarda anche la terra per tutte le applicazioni che con lo spazio si possono dare. E la seconda osservazione che è anche importante, guardate anche come è naturalmente evoluta nel tempo la funzione pubblica rispetto a questo tipo di settore. Fino, se vogliamo dire, fino alla fine del secolo scorso, l'attività spaziale vedeva il mondo pubblico come quel mondo che sosteneva la ricerca. Oggi certamente al mondo pubblico si chiede di essere non solo il finanziatore della ricerca, per carità, questo è naturalmente una componente importante, ma anche e soprattutto di esserne utente, di comprendere appieno quelle che sono le potenzialità. Alcune di queste evidentemente sono ancora molto sottosviluppate e hanno enormi possibilità di essere impiegate. Ma all'interno di questo anche di essere un elemento regolatore, perché le norme con le quali si accede e quindi anche le modalità protette con le quali possono essere resi i servizi diventano un elemento importante. Quindi oggi un'attenzione anche al mondo della ricerca, ma in uno spazio che è inserito in un contesto più ampio, in cui è veramente utile ai cittadini per una quantità enorme di applicazioni. È un mondo pubblico che è sponsor, che è finanziatore, che è regolatore, che è utente. Il Cira ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, tecnologica e di sperimentazione nei settori aeronautico e spaziale da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei ed internazionali, come recita il nostro Statuto. Abbiamo iniziato attività di salvaguardia ambientale, promosse peraltro dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capovetere, per attività multipiattaforma di monitoraggio e con l'INGV siamo stati i primi firmatari del protocollo organizzativo. È evidente che il Cira è anche oggi particolarmente attivo nell'osservazione della terra e vedremo qualche applicazione in ambito di prossimità e persistenza, nella quale è anche titolare di brevetti. Vorrei rappresentare qui giusto qualche esempio di come si serve la Procura della Repubblica attraverso l'attività di IDES, l'Intelligent Data Extraction System, oppure attività legate al monitoraggio integrato di discariche ed aree di sversamento, oppure analisi degli impatti al suolo con il centro mediterraneo. Oggi valuteremo sicuramente quelle che sono alcune delle riflessioni che possiamo fare per il demanio, ma in generale andiamo a vedere anche semplicemente attraverso queste fotografie in sequenza quali sono tante delle possibilità. E si comprende come il ruolo della pubblica amministrazione possa essere enorme da questo punto di vista. E ben venga quindi questa legge, che vi posso dire, io che ho vissuto per tanti anni all'estero, ho lavorato per l'Agenzia Spaziale Europea, ho lavorato per l'Associazione delle Industrie Manifatturie Spaziali Europee. Questa legge che noi abbiamo e che Giorgio Sancoccia citava, è una legge che certamente mette insieme proprio questo bacino dell'utenza. E quindi favorisce quella che è la capacità di incontrare i bisogni della domanda istituzionale che possono essere serviti dalle tecnologie spaziali con la capacità dell'offerta della ricerca. In una strategia nella quale il posizionamento Paese a dieci anni ci porta, andando a ritroso, a vedere quali sono gli step a breve che dobbiamo fare. Il posizionamento strategico che può avere tutta la nostra filiera nel contesto. Dal grande al piccolo, attraverso l'attività per il territorio e l'ambiente, vediamo alcuni degli esempi. Change detection, movimento al suolo a strati superficiali, cambiamento che viene rilevato per esempio dal codice colore. Indici vegetazionali, risposte organiche al biota. Attraverso indici di differenziazione della vegetazione si possono rilevare in una serie di attività, ma anche molto importante, l'aspetto che riguarda l'assorbimento in termini di radiazione attiva del fenomeno di fotosintesi e rappresentazione. Cambiamento della scena. In realtà simile al change detection, ma qui l'aspetto è specifico perché in realtà il riconoscimento di scena va a intervenire su quelle che sono le anomalie del cambiamento di scena, quando questa non dovrebbe esserci. Quindi esempi avvicinamenti a discariche chiuse, in orari improbabili o altre cose del genere. E quindi naturalmente monitoraggio continuo, il cambiamento emerge e l'intervento non prevede una presenza pubblica costante di monitoraggio, ma solamente quella che viene triggerata dall'evento di cambiamento. Ecco quindi la possibilità di interventi mirati, riduzione dei costi ed efficacia puntuale ogni volta che il cambiamento c'è. Permanent scatter. Molto importante. L'Italia con il Cosmo Skymed è diventata uno dei paesi leader mondiali in questo tipo di tecnologie e ha messo a disposizione capacità estremamente importanti. L'elemento di fatto che è alla base di tutto questo è quella, è la tecnica dell'interferometria differenziale. Cioè attraverso i dati che provengono dai radar ad apertura sintetica si fa una valutazione su quelle che sono le variazioni del valore della fase tra momenti distinti di acquisizione. Al variare del valore di fase si acquisiscono di fatto informazioni. Quindi come vedete poi tutto l'elemento dei dati significa soprattutto capacità di processare dati, acquisireli attraverso la tecnologia spaziale ma processarli poi all'interno dei sistemi. E questo è costante verticalmente su tutto ciò che andiamo a vedere. Analisi ontologiche. Molto interessante. Vediamo aggregazione di dati economici o produttivi con layer geografici e geomorfologici. Stiamo mettendo insieme quella che è l'informazione sul territorio con quella che è l'informazione delle attività che ci sono sul territorio. Si apre un patrimonio vastissimo di applicazioni per la quale si può anche andare a vedere quella che è la bontà anche di quello che sta avvenendo e al tempo stesso quindi naturalmente al contrario. Transet, sensore termico di scariche percolati. le alterazioni termiche che vengono col cambiamento di codice colore in una discarica sono gli indicatori di processi biodegenerativi e di possibili emissioni di gas e percolati. E' quindi evidente che in generale tutto questo alimenta tutta un'attività a supporto della società in termini di sicurezza, in termini di controllo ambientale, in termini di controllo delle attività illecite. Bolli specifici multisensore ottico e termico. Per esempio in questo rilevo aerofotogrammetrico si vengono a evidenziare sversamenti che sono nello specifico rappresentati in questa macchia ovale scura. Interazione di dati diversi portano ad avere quindi la possibilità di mappature che vengono fatte nell'ottico, nel radar, vengono fatte sia nel visibile che nel non visibile, vengono fatte giorno e notte e quindi naturalmente a integrare moli di dati. Un esempio, il protocollo per la salvaguardia ambientale che è stato citato in apertura. Monitoraggio sversamenti abusivi in fiumi e corsi d'acqua. Che tecnologie vengono ad essere utilizzate a supporto di questo? Da una parte dati ottici, non necessariamente di sistemi nazionali. Integrazione con dati SAR, sistemi in questo caso nazionali, dati meteoclimatici di vari servizi nazionali, naturalmente l'aeronautica militare in primis, data fusion ed elaborazione. E qui l'imbuto si raccoglie e qui viene restituito alla società in quella che è la sua potenzialità nel valore aggiunto che è nel processamento di tutto questo. Quest'immagine, se ci fosse più tempo potremmo vedere il video di cosa rappresenta questa immagine sulla destra, in realtà il riscontro di un reato ambientale, il video mostrerebbe lungo il percorso perimetrale come a velocità accelerata si traccia poi lo sversamento che viene rilevato e quindi l'opportunità di poter intervenire immediatamente nel momento in cui le cose si verificano. Ed altri esempi. Quindi vedete in basso a destra l'environmental monitoring che abbiamo appena citato, ma le applicazioni in maniera particolare della prossimità e della persistenza perché oggi al mondo dello spazio si sta aggiungendo il mondo della stratosfera che rappresenta quell'anello di congiunzione tra le attività, normalmente dominio dell'aviazione, quindi fino ai 20 km, mondo dello spazio dai 100 km in su, oggi si sta occupando per tutta una serie di applicazioni in una maniera continua anche il mondo fra questi due, il mondo della stratosfera. E qui noi stiamo sviluppando per i vantaggi della prossimità e della persistenza tutta una serie di attività con le quali immaginiamo di poter contribuire alla sorveglianza dei confini, alla gestione delle crisi sia naturali che procurate, ad attività naturalmente di tipo tattico perché la tecnologia è duale, ad attività a supporto della sicurezza per la mappatura in qualsiasi momento di qualsiasi tipo veicolo, ma anche attività di natura economica come l'agricoltura, l'agricoltura di precisione. E con questo volevo concludere con questa immagine, il Cira ricerca aerospaziale ma al servizio di tutta la collettività, dello specifico anche dell'analisi vulnerabilità strutturale e ambientale, quindi pensiamo di poter contribuire per esempio attraverso l'attività del differenziale interferrometrico a quello che è l'attività per esempio di mappatura, si parlava del patrimonio in termini di stabilità per esempio di fabbricato o d'altro. Noi Cira siamo certamente orgogliosi di poter dare il nostro contributo alla salvaguardia del territorio. Ricchiudiamo con questa immagine evidentemente non di questi giorni ma di giorni che speriamo possano tornare presto.